Nico. L'ultima cosa che Nico sentì fu il coach edge che borbottava, beh, questo non va bene. Si chiese cosa avesse fatto di sbagliato stavolta. Forse li aveva teletrasportati in un covo di ciclopi o a qualche centinaio di metri sopra un altro vulcano. Ma non poteva farci niente. Non ci vedeva più. Anche gli altri sensi stavano andando in tilt. Gli cedettero le ginocchia e svenne. Cercò di sfruttare al massimo lo stato d'incoscienza. I sogni e la morte erano suoi vecchi amici. Sapeva come muoversi nella loro oscura terra di confine. Liberò i pensieri alla ricerca di Talia Grace. Attraversò rapidamente i soliti dolorosi frammenti di ricordi. Sua madre che lo guardava e sorrideva, il volto illuminato dal sole riflesso sul Canal Grande di Venezia. Sua sorella bianca che rideva e lo tirava per mano in quel centro commerciale di Washington, con il cappello verde che le copriva gli occhi e il naso cosparso di lentigini. Vide Percy Jackson su una scogliera innevata fuori da Westover Hall che li proteggeva da una manticora, mentre lui stringeva forte una statuina di mitomagia e bisbigliava «Ho paura». Vide Minosse, il suo vecchio mentore fantasma che gli faceva da guida nel labirinto. Il suo sorriso era freddo e crudele. «Non temere, figlio di Ade! Avrai la tua vendetta!» Nico non riusciva a fermare i ricordi. Si affollavano nei suoi sogni come gli spiriti nella prateria degli Asfodeli, una folla sofferente e senza che supplicava attenzione. «Salvami!» sembravano bisbigliare. «Ricordami! Aiutami! Consolami!» Non osò attardarsi con loro. Lo avrebbero solo distrutto di desideri e di rimpianti. La cosa migliore era restare concentrati e andare avanti. «Sono il figlio di Ade», pensò. «Vado dove voglio!» «Le tenebre mi appartengono di diritto». Si costrinse ad avanzare deciso su un terreno grigio e nero, alla ricerca dei sogni di Talia Grace, figlia di Zeus. Invece, la terra si dissolse sotto i suoi piedi e cadde in una pozza d'acqua stagnante che conosceva bene. La casa di Hypnos, al campo mezzo sangue. Sepolti sotto pile di piumini, i semidei russavano comodamente nei loro letti. Sopra la mensola del caminetto, da un ramoscello scuro, l'acqua lattiginosa del lette gocciolava in una ciotola. Sotto, crepitava un fuoco allegro. Di fronte, in una poltrona di pelle, pisolava il capogruppo della casa quindici, un ragazzone con la pancia rotonda, i capelli biondi perennemente arruffati, e una faccia gentile e un po' bovina. «Clovis!» ringhiò Nico. «Per tutti gli dèi, piantala di sognare così forte!» Il ragazzone aprì gli occhi battendo le palpebre. Si voltò a fissarlo, benché Nico sapesse che anche questa scena faceva parte del sogno. Il vero Clovis continuava a russare nella sua poltrona giù al campo. «Oh, ciao!» Clovis spalancò la bocca in uno sbadiglio capace di inghiottire un dio minore. «Scusa, ti ho attirato di nuovo fuori pista?» Nico strinse i denti. Era inutile arrabbiarsi. La casa di Hypnos era come la stazione centrale di New York, dal punto di vista dei sogni. Non si poteva andare da nessuna parte senza capitarci prima o poi. «Già che ci sono?» rispose. «Consegna un messaggio per me. Dì a Chirone che sto arrivando con un paio di amici. Vi portiamo l'Atena Parthenos.» Clovis si strofinò gli occhi. «Allora è vero? Ma come fate a trasportarla? Avete affittato un camion?» Nico spiegò la faccenda il più brevemente possibile. I messaggi trasmessi via sogno tendevano a offuscarsi, soprattutto quando avevi a che fare con Clovis. più erano semplici. Meglio era. «C'è un cacciatore che ci segue», continuò Nico. «Uno dei giganti di Zea, credo. Puoi portare questo messaggio a Taglia Grace. Sei più bravo di me a trovare la gente nei sogni. Ho bisogno del suo consiglio.» «Ci proverò.» Clovis cercò con mani maldestre una tazza di cioccolata calda su un tavolinetto. «Prima di andartene avresti un secondo? Clovis è un sogno», gli rammentò Nico. «Il tempo qui è fluido.» Ma già mentre lo diceva, si preoccupò di cosa stesse accadendo nel mondo reale. In quel momento forse il suo corpo stava precipitando verso la morte, oppure era circondato da mostri. Però non poteva costringersi a svegliarsi, non dopo la quantità di energia che aveva speso per viaggiare nell'ombra. Clovis annui. «Giusto. Stavo pensando che forse dovresti vedere cosa è successo oggi al consiglio di guerra. Io per un po' ho dormito, però...» «Mostramelo», disse Nico. La scena cambiò. Nico si ritrovò nella sala ricreativa della Casa Grande, con tutti i capigruppo del campo riuniti attorno al tavolo da ping pong. A capotavola sedeva il centauro Chirone, il posteriore equino raccolto nella sedia a rotelle magica, così da sembrare del tutto umano. Fra i riccioli scuri della barba e dei capelli c'erano più fili grigi di pochi mesi prima. Rughe profonde gli solcavano il viso. «Cose che non possiamo controllare», stava dicendo. «Ora rivediamo insieme le difese. A che punto siamo?» Clarisse della Casa di Ares si sporse sulla sedia. Era l'unica in armatura. Tipico. Probabilmente se la teneva addosso anche quando dormiva. Parlò agitando il pugnale e gli altri capigruppo dovettero scostarsi. «Le nostre linee difensive sono molto solide», disse. «I ragazzi del campo sono più pronti a combattere che mai. Controlliamo la spiaggia. Le nostre triremi non hanno rivali sulla baia di Long Island, ma quelle stupide aquile giganti dominano il nostro spazio aereo. Sulla terraferma, in tutte e tre le direzioni, i barbari ci hanno tagliato completamente fuori». «Sono romani», osservò Richelder, mentre si scarabocchiava i jeans con un pennarello. «Non barbari». Clarisse la indicò col pugnale. «I loro alleati allora? Hai visto quella tribù di uomini a due teste che è arrivata ieri? O i tizi con la testa di cane, rossa e luminescente, con quelle grosse asce da guerra? A me sembrano molto barbarici. Sarebbe stato carino che tu l'avessi previsto. Se il tuo potere di oracolo non si fosse guastato proprio quando ne avevamo più bisogno». Il volto di Richel divenne rosso come i suoi capelli. «Non è colpa mia. C'è qualcosa che non va nei doni profetici di Apollo. Se sapessi come rimediare...» «Rece l'ha ragione». Will Solis, capogruppo della casa di Apollo, posò con delicatezza la mano sul polso di Clarisse. Pochi avrebbero potuto farlo senza finire infilzati, ma Will era bravo a disinnescare la rabbia altrui. Le fece abbassare il pugnale. «Tutti quanti ne subiamo gli effetti nella casa di Apollo. Non è solo lei». «I capelli chiarissimi e gli occhi celesti di Will ricordavano quelli di Jason Grace», pensò Nico. Ma la somiglianza finiva lì. Jason era un guerriero. Si capiva subito dall'intensità dello sguardo, dallo stato di allerta costante, dalla sensazione di energia pronta a sprigionarsi che emanava da tutta la sua figura. Will Solis somigliava più a un gatto molto smilzo, allungato al sole. I suoi gesti erano rilassati, mai minacciosi. Lo sguardo era morbido e distante. Con quella maglietta da surfista, i bermuda sfilacciati e le infradito ai piedi, era il ritratto del semidio meno aggressivo del mondo. Nico però sapeva quanto fosse coraggioso in guerra. Durante la battaglia di Manhattan lo aveva visto in azione, il migliore medico del campo, pronto a rischiare la vita per salvare i suoi compagni feriti. «Non sappiamo cosa stia capitando a Delphi», continuò Will. «Mio padre non ha risposto a nessuna supplica e non è comparso nei sogni di nessuno. Sì, insomma, lo so che tutti gli dèi sono in silenzio da un po', ma non è da lui. C'è qualcosa che non va». Dall'altra parte del tavolo Jake Mason sbuffò. «Probabilmente è tutta colpa di quello stupido romano che sta conducendo l'attacco, Ottaviano, come cavolo si chiama. Se fosse Apollo e uno dei miei figli si comportasse in quel modo, non mi farei più vedere dalla vergogna». «Concordo», disse Will, «quanto vorrei essere un arciare migliore. Non mi dispiacerebbe per niente abbassargli la cresta con una bella freccia nel punto giusto. A dire il vero vorrei tanto poter usare uno qualsiasi dei talenti di mio padre in questa guerra». Si guardò alle mani il disgustato. «Purtroppo sono solo un guaritore. I tuoi talenti sono fondamentali», lo rassicurò Chirone. «Temo che presto ne avremo tutti bisogno». «Quanto a prevedere il futuro, che notizie ci sono dall'ARP a Ella? Ha dei consigli da darci tratti dai libri sibillini?» Rachel scosse la testa. «La poverina è spaventata a morte. Le arpie detestano trovarsi imprigionate. E da quando i romani ci hanno circondato...» «Beh, si sente in trappola. Sa che Ottaviano ha intenzione di catturarla. Il massimo che io e Tyson siamo riusciti a ottenere è stato convincerla a non volare via». «Sarebbe un suicidio». Butch Walker, figlio di Iride, incrociò le braccia muscolose. «Con quelle aquile romane nel cielo, volare non è sicuro. Ho già perso due pegasi». «Almeno Tyson ci ha portato qualcuno dei suoi amici ciclopi», disse Rachel. «Una piccola buona notizia». Vicino al tavolo dei rinfreschi, Connor Stoll rise. Aveva una manciata di patatine in una mano e una lattina di formaggio a spruzzo nell'altra. «Una decina di ciclopi adulti? Questa è una gran bella notizia! E poi l'U.L. nei figli di Ecate stanno innalzando delle barriere magiche. E l'intera casa di Hermes ha cosparso le colline di trappole tra bocchetti pieni di sorpresine per i romani». Jake Mason si accigliò. «Tutte cose che avete rubato dal bunker 9 e dalla casa di Efesto». Clarisse concordò con un brontolio. «Hanno rubato delle mine anche dal perimetro della casa di Ares». «Ma come avete fatto?» «Abbiamo soltanto requisito del materiale per gli sforzi bellici!» Connor si spruzzò una dose abbondante di formaggio direttamente in bocca. «E poi, ragazzi, voi avete un sacco di giocattolini! Potreste anche condividerli con gli altri!» Chirone si voltò a destra, dove il satiro Grover Underwood sedeva in silenzio, giocherellando con il suo flauto. «Grover, che notizie ci sono dagli spiriti della natura?» Il satiro sospirò. «Anche in tempi migliori è sempre stato difficile organizzare le ninfe e le driadi. Con Gea in agitazione sono disorientate quasi quanto gli dèi. Katie e Miranda della casa di Demetra sono là fuori in questo momento e stanno cercando di aiutarle. Ma se la madre terra si sveglia...» Guardo attorno al tavolo, nervoso. «Beh, non posso promettervi che i boschi saranno sicuri? Né le colline, né i campi di fragole, né...» «Fantastico!» Clarisse mollò un pugno sul tavolo da ping pong, facendo trasalire tutti. «Gli romani ricevono rinforzi ogni giorno. Sappiamo che progettano l'invasione per il primo agosto. Perché dobbiamo permettere che siano loro a stabilire i tempi? Secondo me stanno temporeggiando solo per riunire più forze. Hanno già la superiorità numerica. Dovremmo attaccare subito prima che diventino ancora più forti. Conduciamo noi la battaglia e nel loro accampamento!» Malcolm, il vice di Annabeth per la casa di Atena, tossicchiò coprendosi la bocca col pugno. «Clarisse, capisco le tue ragioni, ma hai studiato l'ingegneria romana. Il loro accampamento temporaneo ha difese migliori del campo mezzo sangue. Se li attacchiamo nella loro base, ci massacreranno. Perciò ce ne stiamo qui ad aspettare. Basta!» protestò Clarisse. «Lasciamo tranquillamente che si preparino al meglio delle loro forze, mentre Gea è sempre più vicina al risveglio! La moglie del coach Edge è incinta ed è sotto la mia protezione! Non permetterò che le succeda qualcosa. Edge mi ha salvato la vita! E poi ho allenato i ragazzi del campo più di quanto abbia fatto tu, Malcolm! E hanno il morale sotto le scarpe! Sono tutti spaventati! Se restiamo sotto assedio per altri nove giorni, dobbiamo tenerci al piano di Annabeth!» Connor Stoll sembrava più serio di quanto fosse mai stato, nonostante la bocca sporca di formaggio. «Dobbiamo resistere finché non riporteranno qui la statua di Atena!» Clarisse alzò gli occhi al cielo. «Vuoi dire finché quel pretore romano non riporta qui quella statua? Non capisco come Annabeth abbia potuto pensare di collaborare con il nemico! E ammesso che quella romana riesca a consegnarci la statua, il che è impossibile! Dovremmo fidarci del fatto che questo basti a portare la pace! La statua arriva e all'improvviso tutti i romani abbassano le armi e cominciano a ballare e a lanciare fiori!» Rachel posò il pennarello sul tavolo. «Annabeth sa quello che sta facendo! Dobbiamo cercare la pace! Se non riusciamo a unire greci e romani, gli dèi non guariranno! E se gli dèi non guariscono, è impossibile uccidere i giganti! E se non uccidiamo i giganti?» «Gea si sveglierà!» concluse Connor. «E tanti saluti a tutti!» «Ascolta, Clarisse! Annabeth mi ha mandato un messaggio dal tartaro! Dal tartaro! Te ne rendi conto?» «E chiunque riesca a fare una cosa del genere! Beh, io lo ascolto!» Clarisse aprì la bocca per replicare, ma quando parlò fu con la voce del coach edge. «Niko, svegliati! Abbiamo dei problemi!» «Niko, svegliati!» «Amba, svegliati!» «Amba, svegliati!